E ci sono tantissime storie simili, sono storie che si ripetono e noi non volevamo fare l'ennesima storia di box in Messico e quindi ci siamo messi un po' alla ricerca, mi hanno andato a cercare e abbiamo scommesso sulla testa, mi inclino solo perché c'è una persona avanti, secondo me c'è un bellissimo film e sono felice che la sala sia strapiena, io faccio un pronostico, tra qualche mese vediamo a sei. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!